Abbiamo rallentato, è vero. Abbiamo ridotto la nostra produttività. Ma non ci siamo mai fermati. In questo periodo difficile per tutti, abbiamo fatto la nostra parte. Ci siamo messi a disposizione di chi ne aveva più bisogno. Ci è bastato poco per essere felici. E no, non perché l'Abruzzo sia una regione speciale o perché sia una regione magica. Ma perché per quanto fuori il tempo possa fermarsi, noi siamo vivi dentro. Perché noi siamo musica, arte, cultura, montagna e sole. E tutto ciò che è stato sempre narrato. Anche se fuori il nostro paese era avvolto dal silenzio, la musica ci ha sempre accompagnato. Anche se fuori il nostro paese. Ci siamo sempre rialzati e lo faremo anche questa volta. E quindi, anche se fuori il nostro paese. Grazie a tutti